Collaborazione, cooperazione e compartecipazione per una condivisione di intenti finalizzata alla promozione del territorio e all'avanzamento socioculturale. Questi principali punti che sono alla base del patto di solidarietà, siglato ieri a Pratola Peligna, nella cornice di Palazzo Santoro Colella, da sette associazioni culturali di volontariato e promozione sociale. Si tratta di una sorta di linea guida per arrivare a una maggiore questione fra le associazioni che operano sul territorio, senza finalità politico-amministrative e senza propositi di carattere personale. Non è un patto chiuso, ma secondo lo statuto le associazioni potranno decidere di sottoscriverlo anche in futuro. La firma del patto di solidarietà è arrivata a margine di un convegno, Giovani per il sociale, dove i rappresentanti delle singole associazioni hanno raccontato la loro esperienza personale nell'ambito socioculturale, coltivata durante gli anni e hanno presentato le manifestazioni organizzate dalle rispettive realtà associative. E' una riproposizione della questione territoriale, siamo uniti nella varietà, sottolinea il vicepresidente di Spazio Giovane, Salvatore Presutti. Possiamo chiamarci Unione Peligna e insieme lavoriamo per un più rosio futuro. E' un patto che formalizza un'unione di intenti che a Pratola già sussiste, rileva e portavoce della piattaforma delle idee Mattia Tedeschi. Con questo patto si è detto oggi, le associazioni di Pratola vogliono viaggiare sullo stesso binario. Ha un valore importantissimo perché miriamo a creare una grande associazione unica, propone Riccardo Merolli di Strittambula. Potrebbe essere un'utopia, ma comunque è quello che crediamo, noi vogliamo una grande associazione. Secondo la presidente di Idea Progetto, Maria Giovanna D'Andrea Matteo, il patto rappresenta l'inizio di un progetto comune. Insieme si può, insieme si deve, insieme ci si riesce. Per il presidente oscente di Vale Penini in tasca, Andrea Ramunno, la collaborazione e la cooperazione devono servire anche per evitare l'accavellamento degli eventi sul territorio. Tira le somme il delegato protempore del gruppo Giovagnavis, Mario Puglielli. Ma siamo anche sicuri del fatto che questo patto non rimarrà fermo come è oggi, ma vedrà un'evoluzione, vedrà una specificità e verrà anche migliorato. L'evento a cui hanno preso parte 11 associazioni è stato organizzato dal gruppo Giovagnavis di Pratola Peligna, nato da poco ma già forriero di iniziative per il territorio.